Attenzione, attenzione, in questo programma vengono utilizzate parolacce e volgarità in generale. Se siete particolarmente sensibili a certi argomenti, vi consigliamo di non ascoltarlo. Vi ricordiamo che ogni riferimento a cose o a persone reali è puramente casuale e del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti.